Benvenuti, benvenute. La pazzia degli usurpatori psicopatici va demolita con la sanità mentale più potente delle loro sporche azioni. Chi sta seguendo il canale The Secrets of the World ha compreso che energia e forme sono indispensabili per disattivare o aumentare non solo le nostre capacità naturali individuali. Le forme hanno il sopravvento anche sulle energie artificiali o sulle sostanze contro natura create e diffuse da entità innaturali, coadiuvate con l'ausilio di esseri umani attaccati all'ego e al denaro. Nel video precedente dal titolo US Navy spruzza sopra il Wyoming e il tradimento è un crimine, avete confermato nei commenti che l'inquinamento nei cieli avviene su tutta la bella penisola italiana, isole comprese. Tutti siete a conoscenza che altri geni hanno messo a disposizione strumenti per aprire il cielo dalle nuvole, ad esempio, o attenuare i terremoti, o forme per limitare l'inquinamento elettromagnetico, proteggersi dagli ultrasuoni, ecc. Cosa possiamo fare per le scie chimiche? Non dimenticate che il pensiero crea e che le forme comandano come il jolly nel gioco delle carte che vale per tutte le altre. Ecco la forma da posizionare nei giardini, nei terrazzi, negli orti, nei cortili, ecc. La forma naturale tonda realizzata con un semplice rametto di legno curvato, purché mantenga le proporzioni che vedete qui di 30 cm di diametro circa. Deve essere fatta in legno e non in metallo. Le varie forme possono essere sovrapposte a contatto fra loro e non incollate. Si possono fermare col filo o col nastro adesivo di alluminio. Il filo che si vede nella foto serve per tenere in tensione e in forma il cerchio di legno. Le forme non è necessario che siano perfette e nemmeno il cerchio deve essere perfetto. Va posizionato in verticale e allineato che punta verso l'est naturale. L'est naturale viene spiegato nel video l'energia angolare dal canale The Secrets of the World. Come funziona? Le scie sfruttano una maglia energetica orizzontale, che ha anche una sua frequenza. Le particelle emesse dalle scie si adagiano su questa maglia e si espandono in senso orizzontale. La forma serve per rinforzare la maglia e creare un'intensità sufficiente a far perdere aderenza alle particelle sulla maglia stessa e quindi vengono disperse. Allo stesso tempo neutralizza, o meglio attenua tantissimo gli effetti nocivi di queste particelle, che man mano poi cadono a terra dispertendosi. Condividere e diffondere è un tuo dovere.